Musica Allora, benvenuti in un nuovo video Oggi sono qui per farvi un nuovo video haul E' tantissimo che non ve ne faccio uno Perché in queste ultime settimane ho cercato di dare la precedenza ad altre idee Chiaramente di video sul canale Sia video che sono già stati postati Sia video che verranno postati in seguito Per cui invece di farvi tanti video haul da 5 minuti Ho preferito raggruppare e raccimolare un bel po' di roba In quantità tali da farvi un unico video haul Magari un po' più lunghino Perché penso che questo sia il video haul con più roba che io abbia mai girato sul mio canale Non so nemmeno se ce la farò a finire di girarlo per quanta roba ho davanti In quanto le cose che vi andrò a far vedere oggi appartengono a diverse categorie Molto diverse tra loro Ovvero ho cose inerenti all'università Quindi materiale scolastico diciamo Make up E infine vestiti Quindi questo sarà anche un try on haul In collaborazione come al solito con le mie aziende cinesi del cuore Ovvero Romo e Shinside Io direi di partire subito perché altrimenti mi perdo in chiacchiere Questo video dura un'eternità Senza considerare il fatto che io tra un'ora devo essere all'università E sono ancora qui seduta a farvi un video Iniziamo infatti proprio dal materiale universitario che ho comprato recentemente Allora inizio facendovi vedere i quaderni Mi sono diciamo sbizzarrita con i quaderni della monocromo Che devo dire a me non sono mai piaciuti perché li ritenevo abbastanza tristi per come sono fatta io Tuttavia ultimamente ho notato che le colorazioni introdotte sono molto molto carine E mi piacevano talmente tanto che ho deciso di fare tutta una serie di quaderni della monocromo Allora ne ho presi di due diverse categorie Ovvero Aspettate che non me li ricordo Allora per esempio questo qui Che adesso li fanno di un colore E poi fanno la scritta sotto di un altro colore Ed è fighissimo a me piace un sacco E li ho presi di due tipologie Ovvero a righe Come questo qua che vi sto facendo vedere E poi Anche quest'altro a righe Come vedete è blu E poi qua sotto ha una scritta in verde Quindi anche questo a righe come potete vedere E poi due che io non sapevo nemmeno esistessero Le ho visti da una mia compagna all'università E ho pensato ma da quand'è che esistono Voi sapevate che esistono Cioè questa è una domanda che voglio proprio farvi a mo' di inchiesta giornalistica Ovvero Voi sapevate che la monocromo producesse anche quaderni Senza né righe né quadretti né puntini né niente Proprio fogli bianchi fogli bianchi Io sono rimasta scioccata E siccome mi servivano per farci dei book Per due materie Ho deciso appunto di prenderne i due Anche questo qui è rosa con la scritta arancioni sotto E mi piace moltissimo E anche quest'altro è appunto Verde con la scritta blu E dentro non ha né righe né quadretti E questi per me sono stati una scoperta unica E mi sono piaciuti tantissimo Tra l'altro ripeto mi servivano Anche perché in queste due materie specifiche Che sono teorie della percezione e psicologia della forma E semiotica dell'arte Ci fanno sempre utilizzare fogli sparsi Per cui ho detto meglio un quaderno Che li ha tutti attaccati Comunque senza né righe né quadretti E questa cosa vi giuro Mi ha cambiato l'esistenza Quindi ditemi mi raccomando se voi sapevate Che esistessero E se li avete per cosa li usate Perché sono curiosissima Visto che io sono entrata in questo magico mondo Di monocromo senza né righe e quadretti da poco Poi ho comprato una marea di penne Come potete vedere Allora ora vi faccio vedere bene per categoria Sono penso tutti della stessa marca Sì non solo della stessa marca Ma anche della stessa linea Ovvero sono le stabilo Sì sono tutte della stabilo E ho preso queste tre penne Dovevi sapere che queste penne costano Un occhio della testa Però c'è da dire che come scrivono queste penne Vi assicuro che Non c'è altra penna che Possa essere paragonata a queste Nel senso io mi ci trovo benissimo E sono le uniche penne che ho utilizzato Fino adesso che non mi fanno venire i calli sulle dita Cosa che io generalmente ho sempre quando scrivo Le ho prese di queste tre tipologie Ovvero questa la uso un po' per tutto È blu standard E poi questa e questa Per sottolineare oppure dare risalto Ad altre cose Quando prendo appunti in classe Poi quando vi farò il mio metodo di studio Vedrete a cosa le uso Poi sempre stabile O sempre della stessa linea Ho preso queste qua Che conoscerete sicuramente Perché mentre queste qui sono un po' più di nicchia Io per esempio non le conoscevo fino a poco tempo fa Queste qui sono famosissime Se siete entrati almeno una volta alla filtrinelli Vi erano sicuramente catturato Queste qui sono quelle appunta Sottilissima come potete vedere E a me piacciono tantissimo Le uso per i titoli Per sottolineare o scrivere parole chiave Mi piacciono un sacco Le ho prese di queste tre colorazioni Ma penso che ben presto amplierò la mia collezione Perché mi piacciono un sacco Anche se costano E infine ho preso queste due Sempre della stabilo Però queste qui sono a punta grossa Diciamo come fossero pennarelli Come potete vedere E anche queste sono molto molto comode In particolare questa qui la utilizzo Questa qui rossa per i titoli Oppure le parole Proprio le frasi O parole molto importanti Questa qui invece la uso Per disegnare a volte O per ricalcare alcune cose Perché per una materia in particolare Mi servono Quindi queste sono ottime Vi giuro che questo video Non è sponsorizzato dalla filtrinelli Ma veramente Queste penne della stabilo Né tanto meno dalla stabilo Magari Vi assicuro che queste penne qua Cioè penne Pennarellini varie Matite strane Sono veramente ottimi Veramente Ve li consiglio tantissimo Mi ci sto trovando da Dio Vi assicuro è un piacere scrivere In realtà pensavo di aver finito con i quaderni In realtà me ne sono trovati altri due qua sotto Quindi ve li integro Ovvero questi quadernini qua Ne ho presi due Eccoli qua Questo qui che è giallo con i buchi Sempre a quadretti Quindi giallo con i buchi a quadretti Quest'altro invece è rosa Sempre a quadretti Ma senza buchi ai lati In realtà non me ne ero accorta Che quest'altro avesse i buchi Ma non mi interessa Cioè è irrelevante Anche perché il prezzo era lo stesso Per cui Chi se ne importa Poi vi faccio vedere una cosa Che ho dovuto comprare Per forza Per due motivi In primis Avete presente l'astuccio Che vi ho fatto vedere Nello scorso All di prodotti per la scuola Ovvero il mio astuccio Con i carlini Con gli occhi storti Bene Io quell'astuccio Lo adoro Soltanto che Sfortunatamente Qualche settimana fa Mi si è rotta la lampo E' una cosa del tutto risolvibile Nel senso Si può tranquillamente rimettere Solo che è una cosa Sapete di quelle cose Che ci vorrebbe un attimo A farle Ma non vi va Perché dovreste trovare la lampo Chiedere a mamma Insomma E' una cosa noiosa Per cui siccome Non mi andava di perderci tempo E in quel momento Non potevo Ho deciso di andare a vedere Da H&M Se avessi qualche altro astuccio Visto che quell'astuccio lì era di H&M Mi c'ero trovata benissimo Chiaramente ho trovato un astuccio E guardate quanto è bello Cioè E' la vita Come dico io E' un effetto Olografico Bellissimo Poi a seconda di come lo si mette E del posto in cui si è Prende colori diversi Ed è veramente meraviglioso E' grande E' più grande dell'altro Infatti mi ci trovo benissimo Come potete vedere E' abbastanza grande E mi piace un sacco L'ho pagato mi sembra 4 euro E E' Veramente E' fantastico Poi vi ripeto Non avevo tempo Di riparare quell'altro E questo quando l'ho visto in cassa Ragazzi miei Non potevo lasciarlo lì Perché è veramente bellissimo Ogni volta che lo tiro fuori Tutti mi chiedono dove l'ho preso Perché è meraviglioso Non ci si crede che H&M fa anche queste cose Insomma Super promosso Adesso andiamo alla parte make up Queste cose di make up Sono tutte di Essence E le ho prese a Bologna Qualche giorno fa Quando ci sono stata Con la mia amica Flavia Per il concerto di Justin Dovete sapere che A Roma Essence E' una leggenda Nel senso che Se trovate uno stand Essence Vivo E' tipo Un miraggio Perché è impossibile Trovarne uno Io stessa Non ne ho mai trovato uno Intatto a Roma Né alla Coin Né all'OVS Per cui quando sono andata a Bologna Ho detto Ma si vediamo se all'OVS di Bologna C'è qualcosa Che magari a Roma non c'è Sono entrata E ragazzi miei Era lo stand più perfetto Che io avessi mai visto Cioè era tutto E quando dico tutto Intendo tutto In maniera ordinata Perfetta E Il cuore mi si è riempito di gioia E ho preso delle tre cose No scusate Due cose inerenti Alla nuova collezione Natalizia di Essence E poi due cose Che a Roma non avevo trovato E che cercavo ormai Da mesi E quando le ho trovate È stato amore puro Allora vi faccio vedere Intanto le cose Appartenenti alla nuova collezione Che si chiama The Little Christmas Factory Ed è molto molto carina Anche il packaging Allora la prima cosa Che ho preso È questo qui Le cose considerate Le ho prese l'altro ieri Per cui non le ho ancora provate Solo una Ne ho provate Dopo ve ne parlo Questo qui È un eyeliner Color oro Bellissimo Cioè guardate Che packaging Che ha Per essere Essence Mi sembra di averlo pagato 3 euro Ma penso ne valga la pena Perché guardate Quanto è carino È adorabile Poi bianco e oro Secondo me sono perfetti insieme Ha la punta fatta In questo modo Spunto color oro Non me l'aspettavo Da Essence E siccome era da un po' Che in realtà volevo prendere Un eyeliner oro Ho detto Ma sì Proviamolo Tanto voglio dire Per 3 euro Si può fare Il secondo prodotto Sempre della linea Di Natale È questa bellissima Palette Come potete vedere Comunque si riprendono Moltissimo Sono veramente Veramente Molto graziosi Anche insieme La palette È carinissima Molto maneggiata E questa è sicuramente La palette perfetta Per portare in giro Insomma Sia durante la giornata Se vi dovete ritoccare Il make up Anche per viaggiare Soprattutto per viaggiare È anche facile da aprire Ora Qua come al solito C'è lo specchio Per cui ve lo copro E queste sono le cialde Ditemi voi Se Primo Non sono colori bellissimi Secondo poi Se questa Cosa Quasi Ha goccia Non vi ricorda Kylie Secondo me Sono stati fatti Pensando a Kylie Jenner Ditemi voi Se Questo sgocciolamento Non vi ricorda Appunto Le tinte O comunque Il Tra virgolette Diciamo Questo nuovo stile Che ha creato Kylie Jenner Io lo trovo Adorabile Veramente Le colorazioni Secondo me Sono bellissime Chiaramente Quella che mi ha più colpito È questo verde Ma anche le altre Nonostante possano sembrare Dei soliti colori shimmer Non lo sono affatto Sono dei colori Veramente originali Forse il più scontato È il marrone Ma questi due Questo non sono per niente Scontati Sono veramente molto graziosi Mi piaceva un sacco E non ci ho pensato due volte E l'ho presa Ho trovato Finalmente Dopo circa due mesi Che la stavo cercando Questa qui Che è la Essence Long Lasting Lip Liner Numero 11 Via Game Changer Questa qui Io di queste qui Ho tutta E dico tutta la linea Nel senso Le ho tutte Mi mancava solo questa Che era la colorazione Che desideravo di più Ovvero la numero 11 Ripeto Perché ha questo bellissimo Color vinaccia Che tutte dicono Essere fantastiche Quindi quando l'ho vista Capirai Costa 1,89 Ed è fantastica Ragazze Queste qui Sapete Sono la mia collezione Preferita di Essence Queste matite In realtà vi fanno Da rossetto E durano un'eternità Anche se mangiate Per cui è un colore scuro Non potevano prenderla Ultimo prodotto Essence Allora dovete sapere Che quando ho visto Questo prodotto Ho strillato E la gente mi ha guardato Tipo questa è matta Perché dovete sapere Che le altre cose Erano su una parte Dello stand Perché avete visto Che gli stand Essence Hanno una parte davanti E una parte dietro Tutte le altre cose Che vi ho mostrato Le tre cose Stavano dalla parte davanti Questa qui Stava sulla parte dietro Dove di solito Insomma deve stare Quindi quando sono andata A girare Ho guardato Come a dire Non è impossibile Che ci sia E quando l'ho vista È stato panico Nel senso che Questa qui Ora vi faccio vedere Di cosa sto parlando So che qualcuna di voi Avrà fatto tipo L'ha trovata Ebbene sì Considerate che questa qui A Roma È tipo Wampid Tipo ricercata Al massimo Perché io vi assicuro Che non l'ho mai vista In uno stand Essence A Roma Mai Né da Coin Né da UBS Quindi quando l'ho vista Non potevo non prenderla Questa qui È la Cipria In polvere libera 01 No scusate 10 Leggevo al contrario Che Tutte dicono Essere fantastica Essere meravigliosa Tutta la vita Quindi ragazzi Io l'ho cercata Come una disperata Per questi mesi Ma non l'ho mai trovata Arrivo a Bologna E ce n'erano 30 Non lo so Cioè lo stand Era pieno così Bellissima Oggi l'ho provata E per adesso Mi sta piacendo Però chiaramente Per dirvi esattamente Cosa ne penso E se mi piace o meno Dovremmo aspettare Almeno una settimanella Che la testerò Bene anche per 12-13 ore al giorno Quindi questa qui È l'ultimo prodotto make up Di cui però Sono veramente contenta Nel senso Non smette mai Di darmi delle grandi soddisfazioni Andiamo alla parte Try on all Ovvero dei vestiti Che mi sono arrivati Come al solito Da Sheinside E Romwe Inizio come al solito Da Sheinside E ve li faccio vedere Come al solito Vi ricordo Che vi lascio Tutti i link Sia dei Di Romwe Che di Sheinside Come i siti in generale Sia i link Ai singoli prodotti Che vi faccio vedere In questo video Giù nell'info box Se volete dare un'occhiata Io vi consiglio di sì Perché questa volta Mi sono arrivate Delle cose Veramente Meravigliose Inizio con Sheinside Vi faccio vedere La prima maglia Che ho ricevuto Ed è questa qui Allora È una felpa Nel senso Che ha il cappuccio Come potete vedere E poi È molto molto semplice Ha le maniche fatte Tipo a stampa di elefante Non so se si dica così Anche per le maniche Comunque sono comodissime Perché non vi arrivano Fino a qua Ma vi arrivano Diciamo fino a qui Sono molto larghe Quindi sono stracomode Anche per scrivere Soprattutto E poi ha questa bellissima scritta Che è un po' banale Nel senso che Ormai l'abbiamo vista In tutte le salse In qualsiasi negozio Però io questa maglia Ancora non ce l'avevo E mi piaceva un sacco Cioè First I need coffee È veramente graziosa E quando me la vedrete indossata Ve ne innamorerete Perché è veramente Veramente carina E poi di una comodità Unica Ha anche i lacci Per chiudere la Il cappuccio Ed è di un materiale Che onestamente Non saprei dirvi cos'è Penso sia cotone O finto cotone Non lo so Però non è né calda Né Ne vi fa venire freddo Insomma L'ideale per questa stagione La seconda cosa Sempre da Sheinside Questo bellissimo Maglione Allora Io penso Lo sappiate Sono addicted Ai maglioni in inverno Cioè io praticamente Indosso quelli Mattina e sera Tutti i giorni Perché li adoro Ci sto calda Comoda Eccetera Per cui ne ho qualcosa Come 50 Questo qui mi mancava Vedo è molto carino È cortissimo Infatti è un crop top A maglioni Diciamo Alla scollatura A V Che è una cosa Veramente difficile Da trovare nei maglioni Io ce l'ho quasi tutti A C Diciamo Quindi quelli a V Sono orari E mi piacciono un sacco È molto semplice È grigio appunto E bianco Come potete vedere E è davvero comodo Questo è molto molto caldo Quindi lo consiglio A persone che patiscono Molto il freddo Come me Perché butta Veramente tanto caldo Però insomma In inverno ci sta benissimo Passiamo adesso A Romwe Perché le cose di Romwe Sono di una Asfiziosità Unica La prima cosa Che vi faccio vedere È questa camicia Che ha fatto Un figurone Quando me la sono messa Che non vi dico Allora È una camicia Quindi chiaramente Va abbottonata Io non l'ho abbottonata Qui perché vi assicuro Che è una cosa lenta Nel senso Io con le unghie che ho Abbottonare le cose È un incubo Quindi perdonatemi Ma ve la lascio sbottonata È una camicia Semplicissima Bianca Che però Ha poi qua Questi bellissimi baci Ora vi avvicino E vi giuro che sembrano Fatti a mano E questa cosa è bellissima Come se qualcuno Li avesse disegnati Sono anche da quest'altra Ce ne ho solo uno Da quest'altra parte E sono veramente bellissimi Sembra che qualcuno Appunto li abbia disegnati E sono di un'eleganza Unica Vi assicuro Sembra una camicia Fatta da Che ne so Da Chiara Ferragni Cioè voglio dire Da un brand Molto molto costoso Io non so se è una Riproduzione di qualche Veramente camicia Famosa Io comunque Non la conoscevo Però la trovo Bellissima L'ho utilizzata Già una volta E penso La utilizzerò Spessissimo Perché mi piace Un sacco È comodissima È molto bella È molto larga Veramente Veramente carinissima Poi Altra cosa Che vi faccio vedere È questa maglietta qui È una maglia a maniche corte Infatti non è adatta A questa stagione Però mi piaceva talmente Tanto Che ho deciso di prenderla Come potete vedere Sono entrata in fissa Con lo Diciamo Questo alienito qua Ed è appunto Rosa fatta con Questi Diciamo Cose nere Stresce nere Sia sul colletto Che sulle maniche È semplicissima Non è cortissima È un Diciamo Una via di mezzo Tra una maglia corta E un crop top Però è molto carina È molto comoda Non mi ha dato passivio Per niente Questa qui Con Comunque anche in inverno Con sopra un cardigan È la morte sua Mi piace un sacco E anche lo sto utilizzando A questo periodo Anche se chiaramente In estate È meglio Ultima cosa Che vi faccio vedere Da Romwe È questo Giacchetto qui Che voi direte Vabbè Il solito Giacchetto di jeans È sì Jeans Jeans grigio Scuro Quasi nero Con I bottoni Color Oro Diciamo Ottone E voi direte Vabbè Il solito Giubbetto di jeans Normale Carino Però vabbè No Guardate dietro Siete pronti C'è Bellissimo God Save the Queen È meraviglioso Ne cercavo E ne volevo uno Così da un sacco di tempo Chiaramente anche per questo qui Non è stagione Ma vi assicuro Che in primavera Io andrò in giro Soltanto Con questo Bellissimo Giacchetto Che mi piace un sacco Fa un sacco proprio Fashion Vlogger No è veramente strepitoso Mi piace un sacco Non vedo l'ora di indossarlo Questo è l'unico capo Che chiaramente non ho indossato Perché insomma Sotto al cappotto non c'entra E da solo per strada Fa abbastanza freddino Però l'ho chiaramente messo in casa E mi piace Quindi non vedo l'ora di sfruttarlo In primavera Vi ricordo che vi lascio Tutti i link Sia al sito generale Che ai singoli capi di abbigliamento Sotto nell'info box Io vi consiglio Andare a dare un'occhiata Perché questi siti Hanno delle cose sfiziosissime Che costano nulla Per quanto riguarda le taglie Vi ripeto sempre che Vi consiglio di prendere Sempre una taglia in più Rispetto a quella Che già indossate Soprattutto per i maglioni E le giacche Per le magliette Forse va bene Anche la taglia che avete voi Per esempio Io ho la M E di queste maglie È meglio prendere la M Mentre se voi siete una M E volete prendere Un giacchetto del genere È meglio se prendete la L Perché in un giacchetto del genere È meglio stare larghe Che strette E niente Io spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Ditemi Se queste cose vi sono piaciute Ditemi della cosa Dei monocromo Se conoscete E utilizzate queste penne qui Che sono la vita Se vi piace La nuova collezione Essence E mi raccomando Ditemi se volete Un first impressions Su questi prodotti Perché sarei felicissima Di farvelo E farvi vedere anche Il test di una giornata Di questi prodotti E ditemi Se vi siete emozionati Anche voi Quando avete visto questa qui Che ho comprato due giorni fa Niente Io spero che questo video Vi abbia intrattenuto Vi abbia tenuto compagnia E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao